Buongiorno a tutti i lotteria di Arua, abbiamo il 19 di agosto 2016, mi chiamo Isai Labadini e se potete in sintonia con noi stiamo, non lo so, di like noi, stiamo arrivando al live stream e assieme ancora like noi, se con noi in studio non serve il sentente di lotto e stiamo il contador del governo, questa clava comincia che è promesso di te per avvitare, questa cattola ci manda sempre suerte, noi torna a casa Il primo è volito che ti fa ricevere il primo premio di Catoci, per avvitare il numero 7 si chi fa il numero 1, si viene volita, per avvitare il numero 4 9, 7, 1, 4, ti fa ricevere il primo premio di Catoci, per avvitare il secondo premio di Catoci 7, 8, si viene volita, per avvitare il numero 9, 7, 8, 8 e numero 9, 6, per avvitare il secondo premio di Catoci l'ansia di viapre di 3 premio di Catoci, per avvitare il secondo premio di Catoci, per avvitare il secondo premio di Catoci e per avvitare il secondo premio di Catoci, per avvitare il secondo premio di Catoci e per avvitare il secondo premio di Catoci, per avvitare il secondo premio di Catoci, per avvitare il secondo premio di Catoci e per avvitare il secondo premio di Catoci, per avvitare il secondo premio di Catoci e per avvitare il secondo premio di Catoci, per avvitare il secondo premio di Catoci numero 3 e l'ultimo volita per Becfor per avitare numero 7 8 7 3 e numero 7 e questa è la Becfor per avitare e ora abbiamo il premio Zodiac e ora è il 19 di Augustus 5 numero 9 seconda volita numero 3 e l'ultimo volita per Zodiac per avitare e questa è la Becfor 5, 9, 3 e numero 9 è questa Zodiac per avitare per completare il sorteo e l'ultimo volita per avitare finalizzando il premio Zodiac e signo per avitare e l'ultimo volita Libra Libra e l'ultimo volita e l'ultimo volita e l'ultimo volita se vuoi comprare con trappare facilito puoi gana placa cash all'instante per solamente un fleur in mass maia puoi gana e jackpot di lotto 5 con 2,70 mil frin compra bottega desde Awekaba e l'ultimo volita